Il più povero di Peveragno è più ricco del ricco di allora. Testimonianza di Caterina Toselli, vedova tassone, detta nuia, nata a Peveragno, classe 1890. Mio padre, da giovane, era nell'America del Nord, a New York, a cercare fortuna. Si diceva che là gli alberi fossero carichi di sterline, mia madre da bambina andava a servire in campagna, da vaquera, dalle parti di San Magno, presso gente che se la faceva bene. Un mattino, mentre andava al pascolo e intanto mangiava un pezzo di pane duro, incontra un uomo che le dice, quel pane lì ti fa male a mangiarlo e ti fa piangere a cacarlo. Daglielo alla vacca, io te ne do un pezzo del mio. Mia madre ogni sera doveva scegliere se lavorare ancora o saltare la cena. La padrona le diceva, hai più caro o preferisci andare a coricarti? O altrimenti mangiare cena e filare un fuso? Se lavorava fino alla mezzanotte a filare la canapa, le spettava una ciotola di minestra. Altrimenti, niente. In quei tempi la miseria e l'avarizia toccavano un po' tutti. I poveri erano molti. I meno poveri vivevano come i poveri, avevano paura di conoscere la miseria, di tornare indietro e si privavano anche del minimo indispensabile. Nel 1875 mio padre torna dall'America per sposarsi. È un giovane elegante, porta la camicia con il colletto duro, ha i gemelli d'oro. È un buon partito. Mia madre è una bella donna di 20 anni, lavora alla filatura. Come mio padre la vede, si innamora e chiede a Madlenine della frera se può aiutarlo a conoscere tanto una bella ragazza, Linand Carolina. E Madlenine li fa incontrare. Quel giorno stanno insieme fino alla mezzanotte. Poi mia madre ha paura a tornare a casa e lui la accompagna. Lui entra in casa e dice, madre, voglio sposare vostra figlia. La porto in America. Otto giorni appresso erano già sposati. Nel viaggio verso l'America il bastimento quasi affonda. La stiva si riempie d'acqua. Le onde portano in mare la cabina e il capitano. Tutti gridano. Si salvi chi può. A New York c'è la banda musicale che li aspetta per festeggiare lo scampato pericolo. Al santuario della Madonna della Riva, che è un santuario nelle vicinanze di Cuneo, ricchissimo di ex voto. C'è perfino un quadro che ricorda quel viaggio. In America ammucchiano una piccola fortuna. Poi tornano a Peveragno e mettono su il ristorante americano e una bottega. Chi lavora è mia madre. Mio padre beve, fa il signore e fa il prepotente. Quattordici figli deve mettere al mondo mia madre, di cui sei morti piccoli. Anch'io sono andata da bambina a 5 lire il mese. Poi ho cominciato a lavorare nella nostra osteria. I miei ricordi di allora? Ho visto tante volte gli americani che partivano. Ogni autunno alle 4 del mattino sulla piazza di Santa Maria c'erano sempre due o tre break, ossia carrozze a cavalli, diligenze e una ventina di emigranti con il saccone da viaggio. La mala. La piazza era piena di amici e di parenti. Le spose piangevano. Con i break raggiungevano Beinette e poi in treno Genova. Ricordo ancora la prima automobile. Sopra c'era il re che tornava dalle manovre nella valle Pesio. Mia madre era cuoca al pranzo del re. Io ero molto orgogliosa che mia madre servisse il re. Da dietro un pilastro guardavo il re che mangiava una pesca. La mangiava come noi. La vita del paese? La gente allora amava incontrarsi. Era una tradizione di incontrarsi per andare alla veglia nelle stalle. I giovani erano gelosi delle ragazze. Se la gioventù di Cuneo tentava di arrivare a Peveragno, veniva accolta a sassate. Mio fratello lavorava a Torino. Era cameriere. Una volta è andato in una stalla per la veglia. Gli hanno tagliato tutti i bottoni del palto per gelosia, per dispetto. Lavorava a Torino ed era considerato un forestiero. La vita passava molto nelle osterie. Avrò avuto dieci anni. Ricordo che ogni sera veniva nella nostra osteria un vecchio della Madonna dei Boschi. Una frazione di Peveragno verso la collina. E leggeva ad alta voce un romanzo, tre grossi libri e tutta la gente lo ascoltava, silenziosa, attenta. La domenica in tutte le osterie c'era almeno una fisarmonica e ogni frazione aveva la sua osteria. Da noi venivano quelli della Madonna, ossia della Madonna dei Boschi. Uomini e donne, giovani, anziani e vecchi. Scendevano per la messa grande e poi aspettavano l'ora del vespro. Giocavano alla morra e a 3-7. Ballavano, cantavano. A casa vino non ne avevano e si sfogavano. Chi riusciva pagava, chi non riusciva marcava il debito sul registro. Il lunedì, giorno di mercato, nella nostra osteria erano numerose le donne. Avevano venduto le uova e il burro e si concedevano un piatto di trippe, due soldi la scodella, oppure un piatto di brodo, un soldo la scodella. E magari anche la piccola, la pietanza a prezzo fisso, un piatto di carne e verdura, tre soldi. E un mezzo di vino, sei soldi. Proprio di fronte alla nostra osteria abitava la madre Ndegiana Dematelu, una che faceva il gioco delle carte, leggeva la mano, diceva l'avvenire. La domenica nel suo balcone c'era sempre la fila delle donne di campagna. Erano andate a messa e, attendendo l'ora del vespro, correvano dietro all'indovina. La gente credeva alle masche. La gente faceva bollire le catene delle vacche per allontanare le masche dalla stalla. La gente metteva un bicchierino di acqua nel latte per difendere le bestie dalle malattie, dalle masche. Il prete, che era l'uomo più rispettato del paese, non combatteva queste credenze, lasciava fare. I pranzi di nozze? La gente di campagna le organizzava in casa, dopo aver preso il prestito, i piatti e i servizi. Il primo giorno le nozze, le nozze vere e proprie. Dal mattino alla mezzanotte grande festa con gli invitati. L'indomani l'Arnos, la festa riservata ai giovani. Altre occasioni per incontrarsi erano le elezioni. La domenica del voto arrivava Soleri e pagava le trippe e un mezzo litro a tutti. La nostra osteria si riempiva dei suoi elettori. Mangiavano, bevevano e gridavano, viva Soleri! Galimberti pagava da altre parti. A raccontare queste storie si direbbe quasi che in quei tempi si viveva bene. Invece la miseria era tanta e la gente tirava avanti a forza di economie. La gente della collina alta si adattava a tutto, pur di sopravvivere. Era così a Peveragno, era così dalle altre parti. Dalla Valle Pesio le famiglie andavano sulle montagne di Valdieri ed Entraque a lavorare alle carbonere, le carbonaie, a fare il carbone di legna. Erano magari 12 famiglie in gruppo accampate alla meno peggio. Per mangiare mettevano a bollire nei paioli un po' di acqua ed erba. A turno infilavano in quella brodaglia le cundisaire, un pezzo di lardo appeso a un cordino, e quel pezzo di lardo serviva per giorni e giorni. A Peveragno le magrotule, due vecchie che erano mica povere, che avevano un bel po' di campagna, me le ricordo come se le vedessi adesso, mettevano la polenta nemmeno nel piatto, la tenevano in mano e nell'altra mano tenevano l'acciuga. Mangiavano un boccone di polenta e leccavano l'acciuga. Quando la polenta era finita, l'acciuga era ancora intatta. Era molto interessata la gente, anche i pochi ricchi del paese lo sprecavano. Tendevano a fare sempre più soldi, a risparmiare le 100 lire. Oggi il più povero di Peveragno è più ricco del ricco di allora.